E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al quattordicesimo episodio di Pokémon Esmeraldo Randomizer Eccoci qua ragazzi, eravamo una sticca che abbiamo battuto il grande padre Salve Riki, sono Lavo, ho visto Spiro, tempo qua mi è sfuggito, per un perono prendevo la tua Spiro Strano Spiro, Lavo abbiamo anche Surf ragazzi, quindi io direi di andare a... Andare subito, ritornare subito qua ragazzi, a parlare, no, no cazzo dopo tutto il giro, porca cazzozza Ci chiudiamo subito, ok ragazzi, ciclamipoli, ma se mi ricordo dobbiamo... Oh Riki, sembri un tipo dinamico, è una buona cosa, beh ascolta ho bisogno di un favore Riki A ciclamipoli c'è un'area sotterranea chiamata ciclanova Riki, vorrei che tu ci andassi e spegnessi l'ingegnatore Si è guastato e sta diventando pericoloso, ecco ti hai chiesto per entrare a ciclanova Oh, ragazzi Non preoccuparti per te, sarà come bere un birra di acqua, l'entrata di ciclanova è Un breve tragetto in un surf dal percorso 110, quanto sutte idee Quindi dovrebbe essere di qua ragazzi, vero? Quindi allora, zaino Allora Surf dove sta? Ecco, spero che qualcuno me la impari Ok Questo è un problema Allora ragazzi, ho fatto imparare a fibas surf, però lo userò pochissimo, quindi lo toglierò subito diciamo fibas Allora Affrontiamo questi al volo ragazzi Abbiamo un po' chi incontriamo Quindi oggi faremo la cicla nuova Guglielmo Combes, eh vabbè Combuscan Ok Sheptile, regà, batte easy Combuscan Perfetto Addio fratello martielo Ok Suilo Ragazzi, se parlate con questo vi dà l'amo buono Ok Perfetto Ma questo non è un Rocco Infatti Ciao Ricky Sono io Rocco Ci siamo incontrati in una grotta vicino a Blu Rubia Hai trovato questa specie di Hai trovato specie diverse di Pokémon dall'ultima volta che ci siamo visti Il mondo è vasto ed esistono tanti mondi diversi Se puoi Allevare il solito uomo preferito va bene Ma forse Ebbe più interessante Sarebbe più interessante per te allevarne di specie diverse Qual è la tua opinione da allenatore? Scusa, le mie domande sono fuori luogo Comunque spero di dirti ancora Interessante Ok Cazzo, non ho taglio Va bene, facciamo il giro allora Ok, battiamo questi ragazzi Al volo Ma stavo sbagliando strada ragazzi Perché ho visto un attimo Il Poké Nav E il percorso 110 è qui È qui ragazzi, è qui Dovebbe essere qui sotto Eccolo, ho messo a questa Ciglanova ragazzi Ecco qua Ecco qua Ciglanova Ok, andiamo La porta è chiusa Usa la chiave sotto i ranni Ok ragazzi Ciglanova Attenzione Ah, io ragazzi Se mi ricordo Io su Pokémon Smeralda Non l'ho mai fatta questa Merda Mi servono dei repellenti Sinceramente Intanto Corso la si trova Ok, ho sbloccato Eh, madonna Però ragazzi Sti Pokémon Ok Allora Ciglanova Mi sembra abbastanza interessante Ragazzi Oh, una Pokémon Una Pokémon Sì, gli salto I selvatici Trova funi di fuga Attenzione Ragazzi Vi giuro Non l'ho mai fatta Questa cosa Su Pokémon Smeralda Chi è? Ma? Un Pokémon Oddio Sindacquill Ragazzi Ma che cos'è? Ok, ora non è da questa parte Però se io attivo questa Ok Alla fine è un gioco di cose Diciamo Oh Un altro Pokémon Bello Belli Ok, quindi questa arte Dovebbe essere Ok, antiparalisi Ragazzi vi giuro Io non l'ho mai fatta questa qua Ok No Va bene Allora Questo Pokémon Invece Quest'altra Cura totale Va bene Almeno ci facciamo un po' di cure Ok Però questo è sbagliato No, ok Dobbiamo il bottone Oddio Mi hanno rotto il cazzo Mi hanno rotto veramente il cazzo In Pokémon Sermatici Andiamo Ok Oh Che cos'è? Attivate l'interruttore Click Il genitore Sembra essersi Arrestato Quindi abbiamo fatto ragazzi Uh Pietratuono Ragazzi Quindi se troviamo un Pikachu Magari si potrebbe volvere in un Raichu Oh cazzo Ragazzi ci provo Casomai a posto di Jolteon Dove stanno le Pokéball Oddio ragazzi Ispion A posto di Jolteon Siamo mai è buonissimo Perché tanto due elettrici No C'è due attacchi Come se E andiamo Oh ragazzi Devo dire Che è Espion Bello Pokémon Sole Non mi ricordavo ragazzi Che era Pokémon Sole E Espion Comunque Ok Usciamo da questa parte E' un po' se mi ricordo La strada Siopera mi hanno addormentato Cosum Ehm Cheptile Frate Dio Magikarp Poi sono andato dall'altra parte Intanto qua Pokéball Ultraball Buonissimo Catturare i Pokémon Ovviamente Ok Aspetta che Ancora non ho visitato Tutta io ragazzi Questa cosa Si è riuscita questa Ah ok Bella ragazzi Mi è piaciuta comunque Devo dire E' veramente bella Non me l'aspettavo Penso che non l'ho mai fatta Comunque Una cosa del genere Allora Io direi di Per fare Pi 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 Ma scusa Qua sotto Che c'è sta Ma si può andare Qua sotto Ah si Cosa c'è ragazzi Qui sotto Non c'è nulla Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Pensavo ci fosse qualcosa Però invece Non c'era niente Ragazzi Ok quindi ragazzi Io ora parlo con lui Ah 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 Ricky sapevo di aver chiesto Una persona giusta Come ringraziamento Ecco di un MT Contenente fulmine Prendi Quindi mi ha dato fulmine Questa ragazzi Mi ha dato fulmine Dov'è Fulmine frate Fulmine Taptos Ok Ok Ah io direi D Vediamo se un attimo Un attimo Ispion Se impara Cosa ragazzi Se impara Steph Perché se lo impara Ragazzi E' tanta roba Secondo me Se lo impara Ragazzi Secondo me E' tanta roba Intanto vediamo Che tipo è Acqua Imparerà ragazzi Dove stanno i mo Ah già ci stavano i mo Sederò Surf No cazzo Prendi tipo acqua Fuck Li metto più Ok siamo ritornati qua ragazzi Allora Ok Aspetta Che percorso era ragazzi Percorso 119 Ok Allora Non capisco Che cazzo Ok Iperpozione Buona Buonissima direi Buonissima Come si si Combatte Mi sta trallando Ok Alla fine Mi hai preso Ma tu mi cercavi Di evitare Io te volevo prendere Sinceramente Però va bene Capo Va bene Capo Va bene Capo Willfish Attenzione Attenzione Livello 28 Ragazzi Ne stiamo al 24 Piove Ok Vai Ferminion Con graffio Uno di vita Ragazzi Uno di vita Musa Musa La iperpozione Si cura al 100% No Fallito Dai Guarda se non muore Ragazzi 17 Attacca Ragazzi Scrivete in chat Viva Il 17 Il 17 Porta sempre Fortuna ragazzi Tocca cambiare il pokemon Comunque Ok Ecco Blanzi che incontro Carabinia Ok ragazzi C'è Blanzi che Con beccata Fa fuori Carabinia Molto Easy Menti il cartavetro Che fastidio Rega Quel pokemon Di merda Oggi Cerciamo quella cosa La E cerciamo questo Percorso Ragazzi No Chi è che era Stare Ok Combattiamo Contro quest'altro Allenatore Contro Robius Ragazzi Pestone Allora Mi ha ucciso Un po' Mi ha ucciso un po' Con questo qua Sono Jacopo Provo a indurinare Cosa vedo Da due Metang Che lottano Potrei provare A catturare Il vincitore Fu 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 Con molti impegni Ora devo andare Uno mi chiama E uno c'ha un altro impegno Cioè io non capisco Questa roba ragazzi Leggero Ok mi chiama Mentre lui ha impegni Va bene capo Va bene Ho bella scatter Allora Pokeball qua intanto Super repellente Buono Buonissimo Allora Combattiamo anche Contro questo Tocca livellare i pokemon Qua ragazzi Tocca livellarli Proprio Azzurdi Marco Va bene Stiamo proprio Nel chill Nel chill Quindi facciamo Un bel Attacco rapid Non effetto Ok 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 Sgomento Va bene Ragazzi mi sta morendo Quasi tutta la squadra Con questi Però Dettagli Combattiamo un po' Con tutti ragazzi Popoporo 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 Popopo Paolino Magby Ok Soffre per l'ascoltatura Il mio Zaptos Però dovrebbe morire Magby Bravo 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 Zaptos Complimenti Piello 31 Forse Ma quanto gli manca Ma quanto gli manca Ragazzi Ok sono uscito Pensavo si Spiccasse il bollo Intanto mi ha Guardato anche Pokemon ragazzi Allora qua Qua che è Ma Aspetta Ho visto Ho visto una Tizia O sbaglio Il mio occhio Di falco Ragazzi Posete parlare Di una grotta Chiamata Grotta Di tempi Si dice Che lì Si è possibile Riuscitare Gli spiriti Vedi poi come Ma sarà vero Grotta Di tempi Ragazzi Ok Allora Io direi Di andare Qui Questo no Questa si Ok va bene Va bene Va bene Sì 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 Stai Cazzo Guarda Che mi hai detto Guarda il tuo Raggiamento Che fa schifo Come a me Scherzavo Ragazzi Posso dire Che mi ha fatto Tutta la squadra Mi ha fatto Veramente Quasi Tutta la squadra Non sto Scherzando Devo allenare Pokemon Devo assolutamente Allenare Ma stai scherzando Ma stai scherzando Zio Vera Ti prego Ti prego Zaptos Signori Zaptos Il miglior Leggendario In squadra Attenzione Cioè È il migliore È l'unico Grazie al cazzo Però è il miglior Leggendario Della storia Incredibile Batte tutti Hai il Pokemon E' lo strumento Indispensabile Per l'allenatore Alzi Se lo hai Registriamoci Questa era fortissima Ragazzi Comunque C'è qualcosa Di illegale C'avevate Che giuro Noi andiamo avanti Intanto Un altro allenatore Qua E adesso Pensi Lo facciamo Easy Penso Ok Mi aveva ucciso Ragazzi Mi aveva ucciso Mi aveva Lotto in doppio Bella Lotto in doppio Zio Però Ci mette Un Wurple Ulzaring E qua facciamo Vai così Voglio Le lema Entrambi Che è bene Usare Lotto in doppio Ragazzi È veramente OP E non sto scherzando Ok Devo dire Fatta molto easy Questa Lotto in doppio Iperpozione Va bene Ok Se ricordo Ci devo mettere La Ok Non mi piace La bicicletta Comunque Su Smeraldo Devo essere sincero Ragazzi Su Pokémon Smeraldo La bicicletta Non mi piace Per niente Non so perché Ma non mi piace Ragazzi Infatti Non la uso mai Se Se avete fatto caso Proprio non la uso mai Non so perché Ma Non mi piace Ok Ok Qua Istituto medio Ok Aspetta Ritorno a curare Un attimo i Pokémon Ragazzi Eh Se invece Vado Qua Che cos'è Qua sopra Ah ok Lo stesso Ma che cos'è Quella struttura Strana Ragazzi Ah E' la notte in doppio Ma che figata Ecco che cos'era Ecco che cos'era Ragazzuoli Vai Raidon contro Sheldr Cioè Raidon e Sheldr Contro Sheptali e Charmeleon Ok Raidon è morto Ragazzi Io mi concentro sempre su uno E poi dopo attacco l'altro Faccio sempre così Ragazzi Intanto Charmeleon è livello 33 Attenzione Ah bella sta lottendo Che bella Mi piace perché c'è tanti Pokémon Quindi ci sta Ah faccio sempre la cosa La stessa cosa ragazzi Mi concentro su uno E Ok Meno male che Ha usato Sheldr Di protezione Almeno non fa un cazzo ragazzi Ok Madonna Incredibile Vai Con graffio Vai Eppure questo è morto Quasi ragazzi Rimane un 2v1 Io faccio sempre così Nei 2v2 Mi concentro su uno Diciamo il più forte Diciamo proprio Così poi uccido Quest'altro ragazzi Io Io faccio sempre così Non so se lo fate anche voi Se fate 2v2 proprio Io faccio sempre però 2v1 Perché Non lo so Mi trovo meglio A concentrarmi A concentrarmi soltanto su uno Poi uccidere uno Uccido sempre il più forte Diciamo eh Perché Sinceramente è meglio Cioè mi trovo io Meglio così Poi Decidete voi Quello che fa Ovviamente ragazzi Ok Intanto l'abbiamo Scottato Perfetto E' l'ultimo pomo Ragazzi Su Ablu Casomai Quello della meteo Lo facciamo nel prossimo episodio Intrometeo Lago Come si chiama Non mi ricordo Però Lo Rileggiamo un attimo Ragazzi Perché non mi ricordo Madonna Cioè ragazzi Sei un attimo Colpito da solo Si è fatto tutto Quel danno Sì Ho fiba si squadra Ragazzi Per surf Poi lo togliamo E mettiamo Vispion Ok Oh raga Comunque Bracere Secondo me E' OP Cioè Ogni volta Brucia Raga Incredibile Questa cosa Mettiamo doppio Bracere Vai Bracere Su Bracere Vai Sgomento Vabbè Non ci fa niente Penso infatti Perfetto ragazzi E anche questa lotta In doppio E' andata Perfettissimo Ok La cosa si chiamava Istituto Medio Ragazzi Però io Prima di proseguire Prima di proseguire Ragazzi Io Direi Di fermare quel video Fare L'Istituto Medio Nel prossimo episodio E Spero che vi sia piaciuto Ragazzi Mettete like Se è così Condividete il video Il canale E mi raccomando Ragazzi Seguitemi anche su Twitch Che è sempre XRiki Trattino basso 0 1 E alla prossima Ciao belli Grazie a tutti Grazie.